Qual è la città di Barletta? Da questo punto di vista deve approfittare, quindi è una città che organizza grandi eventi sportivi e quindi è importante che la città sia pronta per ospitare questi turisti, questi forestieri che verranno un po' da tutta Italia. Assessore, per Barletta è un'altra grande iniziativa sportiva, una conferma quindi di Barletta, città dello sport? Fa parte di quel novero di iniziative a cui ormai siamo abbastanza abituati, la promozione dello sport non manca, non è mancata nel 2023, la riprendiamo adesso con la mezza maratona organizzata dalla Barletta sportiva, per cui sì, è un inizio che spero che comprenda tante iniziative nel corso anche di quest'anno. A livello provinciale per il CONI il 2023 è stato un anno ricco di iniziative, di successi, di manifestazioni. Adesso nel 2024 cosa ci dobbiamo aspettare? Ci aspettiamo le Olimpiadi, la cosa più importante è l'appuntamento con Parigi, fine luglio, quindi tutte le manifestazioni di interesse naturalmente sono rivolte a questo grande appuntamento internazionale che per il CONI è fondamentale e quindi cercheremo di far ruotare anche le nostre iniziative territoriali intorno a questo appuntamento. Io penso che riusciremo comunque a coinvolgere il territorio ma soprattutto le scuole in varie iniziative che possono cercare di promuovere lo sport in quanto tale ma soprattutto questo grande evento che mai come quest'anno ha un'importanza fondamentale, considerato che le Olimpiadi sono nate in tempo di pace e quest'anno di pace ne abbiamo davvero tanto bisogno. Con la mezza maratona sarà anche un modo di sensibilizzare in merito alla campagna che si chiama Allenati contro la violenza. Di che si tratta? È un progetto regionale per cui molte associazioni l'hanno fatta propria. Questo slogan è nato dalla volontà della regione e dai centri antiviolenza, quelli autorizzati su tutta la regione Puglia. Nasce dall'esigenza di intanto informare perché comunque l'informazione, la sensibilizzazione non basta mai. Ogni giorno noi lo facciamo nei posti di lavoro, ovunque siamo. Naturalmente questa è una bellissima occasione per sensibilizzare tutti questi sportivi, tutta questa gente che arrivano da tutte le parti Puglia e oltre. Quindi questa opportunità è un'opportunità che va colta e va supportata. Si consolida anche un legame fra Autocity, Volkswagen e la mezza maratona di Barletta. Sì, oramai siamo giunti alla undicesima edizione della Volkswagen Barletta Half Marathon, che per noi insomma rappresenta una partnership molto importante perché abbiamo così l'opportunità di utilizzare lo sport come veicolo che ci conduca verso uno stile di vita attivo e salutare, motivo per cui siamo felici di continuare a sostenere questa manifestazione.